Governatore Fedriga, confermati oggi gli sconti carburanti dal 23 gennaio al 28 febbraio. Sì, non solo confermati, ma abbiamo anche utilizzato quello che abbiamo introdotto con norma, ovvero la possibilità di aumentare gli sconti per la fascia zero, ovvero per il territorio a meno di 10 km dal confine con la Slovenia, dove c'era un ulteriore sconto di 10 centesimi al litro. Questo ovviamente per andare incontro all'aumento enorme del benzina e del diesel nel nostro paese, visto anche la vicinanza appunto del paese sloveno. Su questo stiamo impegnando molte risorse regionali, ma per favorire il tessuto economico e sociale della nostra regione.